Il bilancio in questo momento è... Adesso c'è solo delusione. C'è solo delusione perché è vero che siamo andati in semifinale di Champions, quindi pensare che l'anno scorso siamo usciti in girona e quest'anno siamo usciti in semifinale si può e si deve essere secondo me orgogliosi dei percorsi che abbiamo fatto in Champions. Ma è chiaro che sognavamo di andare in finale, volevamo la finale, volevamo battere i nostri rivali e non esserci riusciti ci procura una grande delusione che dobbiamo provare a superare immediatamente perché è troppo importante finire bene il campionato perché la delusione vera sarebbe non riuscire a giocare la Champions l'anno prossimo.